13. «La casa è crollata, mamma!» gridò Josh Hutchins, mentre si liberava a fatica dal terriccio, dalle macerie e da pezzi di travi rotte che gli coprivano la schiena. «Il tornado se n'è andato!» Sua madre non rispose, ma poteva sentirla piangere. «Va tutto bene, mamma. Ce l'affare...» Il ricordo di un tornado dell'Alabama, che aveva spinto Josh, sua sorella e sua madre, nel seminterrato di casa loro quando aveva sette anni, improvvisamente si frantumò e svanì. Il campo di Gran Turco, le lance infuocate e il tornado di fuoco ritornarono in mente con orribile chiarezza e si rese conto che la donna che stava piangendo era la madre della bambina. Era buio. Un peso gravava ancora su Josh e quando lottò contro di esso, un mucchio di macerie, e soprattutto terriccio e legno spezzato, gli scivolò di dosso. Si sedette e il suo corpo pulsava con un dolore sordo. Il volto gli dava una sensazione curiosa. Era così teso che era sul punto di strapparsi. Alzò le dita per toccarsi la fronte e una dozzina di vesciche esplose, con il liquido che iniziò a scorrergli sul volto. Altre vesciche gli scoppiarono sulle guance e sulla mascella. Si toccò la carne intorno agli occhi e scoprì che questi erano tanto gonfi da essere diventati solo delle fessure. Il dolore stava diventando più acuto e sentiva la schiena come se fosse stata colpita con acqua bollente. «Sono ustionato», pensò, «ustionato come all'inferno». Sentì l'odore del bacon fritto e quasi vomitò. Ma era troppo concentrato a controllare l'estensione delle sue ferite. All'orecchio destro sentiva un tipo diverso di dolore. Lo toccò gentilmente. Le sue dita accarezzarono un mozzicone di carne e sangue incrostato dove un tempo c'era al suo orecchio. Ricordò l'esplosione delle pompe e dedusse che un frammento di metallo incandescente aveva tagliato via di netto la maggior parte del suo orecchio. «Sto benone», pensò. E quasi rise ad alta voce. «Pronto per affrontare il mondo!» sapeva che se fosse mai tornato su un ring non avrebbe avuto bisogno di una maschera da Frankenstein per assomigliare a un mostro. E poi vomitò, con il corpo preso da convulsioni e tremori e l'odore di bacon fritto che gli intasava le narici. Quando i conati passarono, strisciò fuori dalle macerie. Sotto le mani aveva terriccio, travi di legno, vetro rotto, barattoli ammaccati e stocchi di gran turco. «Senti gemere un uomo», ricordò i bulbi oculari in fiamme di Popo e redusse che l'uomo giaceva da qualche parte alla sua destra, anche se il suo orecchio da quel lato era ostruito. Il singhiozzare della donna la collocava a qualche distanza davanti a lui. La ragazzina, se era ancora viva, restava in silenzio. L'aria era ancora calda, ma almeno era respirabile. Le dita di Josh si chiusero su un'asta di legno e la seguì al tatto fino all'estremità di una zappa. Scavando nel terreno intorno a sé trovò vari oggetti, lattina dopo lattina, alcune aperte da cui fuoriusciva il contenuto, un paio di cose fuse che un tempo avrebbero potuto essere bottiglie di plastica di latte, un martello, alcune riviste carbonizzate e pacchi di sigarette. L'intero minimarket era collassato su di loro, gettando ogni cosa nel rifugio antiatomico di Popo. «E sicuramente si trattava di questo», ragionò Josh. «I ragazzi sotterranei dovevano aver saputo che un giorno avrebbe potuto averne bisogno». Tentò di mettersi in piedi, ma batté la testa prima di alzarsi da una posizione accovacciata. Toccò un soffitto di terreno pressato, assi e probabilmente centinaia di ruvidi stocchi di gran turco ammassati a circa un metro e mezzo dal pavimento del seminterrato. «Oh Gesù», pensò Josh, «devono esserci tonnellate di terra proprio sulle nostre teste». Ipotizzò che non avessero più di una sacca d'aria laggiù. E quando quella sarebbe finita... «Smetta di piangere, signora», disse. «Il vecchio ha ferite peggiori delle sue». Lei ansimò, come se non si fosse resa conto che qualcun altro era sopravvissuto. «Dov'è la bambina? Sta bene?» Delle vesciche scoppiarono sulle labbra di Josh. «Suan», gridò Darlene. Cercò su Wanda nel terriccio. «Non riesco a trovarla! Dov'è la mia bambina? Dov'è Swan?» Poi la sua mano sinistra toccò un piccolo braccio. Era ancora caldo. «Eccola qui! Oddio, è sepolta!» Darlene iniziò a scavare freneticamente. Josh strisciò fino al suo fianco e individuò il corpo della bambina usando le mani. Ma solo le sue gambe e il braccio sinistro erano sepolti. Il suo volto era libero e stava respirando. Josh liberò le gambe della bambina e Darlene abbracciò sua figlia. «Suan, stai bene? Dimmi qualcosa, Swan, forza! Parla alla mamma!» Scosse la bambina fino a quando una mano di Swan si alzò, spingendola debolmente. «Smettila!» La voce della bambina era un sussurro rauco e biascicato. «Voglio dormire fino a quando arriviamo.» Josh strisciò verso i gemiti dell'uomo. Trovò Popo rannichiato e mezzo sepulto. Lo liberò con cautela. La mano di Popo si incastrò fra gli stracci della camicia di Josh e il vecchio borbottò qualcosa che l'altro non riuscì a capire. avvicinò la testa e disse «Cosa?» «Il sole», ripetè Popo. «Oh signore, ho visto esplodere il sole!» Iniziò di nuovo a murmurare. Qualcosa su delle ciabatte. Josh sapeva che non avrebbe esistito ancora a lungo e tornò da Darlene e Swan. La bambina stava piangendo. Era un suono calmo e profondamente ferito. «Shh!» fece Darlene. «Shh! Tesoro! Ci troveranno! Non preoccuparti! Ci tireranno fuori da qui!» Ancora non aveva capito del tutto cos'era successo. Tutto era nebuloso e confuso, dopo il momento in cui Swan aveva indicato il cartello di Popo sull'interstatale, dicendo che sarebbe esplosa se non fosse andata in bagno. «Non riesco a vedere, mamma», disse Swan debolmente. «Cela caveremo, tesoro. Ci troveranno molto...» Aveva allungato la mano per accarezzare i capelli di sua figlia e la ritrasse di scatto. Le sue dita avevano trovato una peluria ispida. «Oh mio Dio! Oh Swan! Oh bambina!» Aveva paura di toccare i suoi capelli e la sua faccia, ma non sentiva nulla di più fastidioso di una leggera scottatura. «Sto bene», disse a se stessa. «E anche Swan sta bene. Ha solo perso dei capelli, tutto qua. Staremo benissimo». «Dov'è Popo?» chiese Swan. «Dov'è il gigante?» Le dolevano forte i denti e sentiva l'odore della colazione. «Io sono proprio qui», rispose Josh. «Il vecchio non è troppo lontano. Siamo nel seminterrato e l'intero posto è collassato». «Ne usciremo», lo interruppe Darlene. «Non passerà molto tempo prima che qualcuno ci trovi». «Signora, questo potrebbe non accadere per un bel po'. Dobbiamo calmarci e risparmiare l'aria». «Risparmiare l'aria?» Il panico tornò. «Ma stiamo respirando benissimo». «In questo momento sì. Non so quanto spazio abbiamo qua dentro, ma immagino che l'aria diventerà molto pesante. Potremmo dover stare qui dentro per... per molto tempo». Decise di dire. «Lei è pazzo! Non ascoltarlo, tesoro. Scommetto che stanno scavando per liberarci proprio in questo istante». Iniziò a cullare Swan come una neonata. «No, signora». Era privo di senso fingere. «Non credo che qualcuno ci tirerà fuori nel prossimo futuro. Da quel campo di Gran Turco sono usciti dei missili. Missili nucleari. Non so se uno di essi è esploso o che sia accaduto, ma c'è una sola ragione per cui quelle dannate cose sarebbero decollate. L'intero mondo potrebbe lanciare missili in questo istante». La donna rise con il suono che si avvicinava all'isteria. «Non ha nemmeno il buon senso che Dio ha dato a una nullità. Qualcuno deve aver visto tutto quel fuoco. Manderanno aiuto. Noi dobbiamo andare a Blakeman». «Gusto», disse Josh. Era stanco di parlare e stava sprecando aria preziosa. Si allontanò strisciando per qualche metro e scavò una cavità in cui infilare il suo corpo. Una sete intensa lo tormentava, ma al contempo doveva anche svuotare la vescica. «Più tardi», pensò. «Sono troppo stanco per muovermi adesso». Il dolore stava diventando di nuovo forte. La sua mente iniziò a volare oltre il seminterrato di Pou Pou e oltre il campo di Gran Turco bruciato, verso quello che avrebbe potuto essere rimasto all'esterno. Ed era davvero iniziata la terza guerra mondiale. Avrebbe potuto essere già finita a quel punto. Magari i russi stavano invadendo l'America o gli americani stavano penetrando in Russia. Pensò a Rose e ai ragazzi. Erano morti o vivi. Avrebbe potuto non saperlo mai. «Oddio», sossurrò al buio e si rannicchiò per fissare il vuoto. «Pou Pou stava facendo un suono balbettante e strozzato. Poi disse ad alta voce «C'è un goffer nella buca! Amy, dove sono le mie ciabatte?». La bambina emise un altro suono ferito e singhiozzante e Josh strinse i denti per trattenere un urlo di rabbia. «Una bambina così carina», pensò. «E adesso stava morendo. Come tutti noi. Siamo già nelle nostre tombe. Già distesi e in attesa». Ebbe la sensazione di essere inchiodato al tappeto da un avversario che non aveva programmato di incontrare. Poteva quasi percepire la mano dell'arbitro che batte sul tappeto. «Uno, due». Le spalle di Josh si spostarono. Non ancora tre. Presto, ma non ancora. E scivolò in un sonno torturato con il suono del dolore della bambina che gli tormentava l'anima.